Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Su Repubblica, rotocalco turbomondialista, nonché voce del padronato cosmopolitico e dell'ordine liberale atlantista, compare un articolo che riporta e commenta le recenti affermazioni di Lavrov, figura di spicco della Federazione Russa, braccio destro di Vladimir Putin, il quale ha detto senza perifrasi edulcoranti che stanno per finire per sempre i 500 anni di dominio occidentale sul mondo. Questa è l'affermazione di Lavrov, direi molto decisa e risoluta, un'affermazione che merita un breve commento. Ora è evidente come la Russia di Putin, proprio come la Cina di Xi Jinping, i BRICS e tutti i paesi cosiddetti non allineati si stanno organizzando per contestare radicalmente l'ordine liberale atlantista, cioè il dominio americano sul mondo, ciò che Lavrov chiama il dominio dell'Occidente sul mondo intero, che dura a suo giudizio da 500 anni. Ebbene, è evidente che a tenere uniti questi paesi e queste realtà, altrimenti diversissime, è soprattutto l'esigenza di contrastare l'imperialismo di Washington. Non so se davvero stia finendo il dominio occidentale sul mondo, sarebbe auspicabile, non per favorire un altro dominio di altro tipo sul mondo, ma per garantire, come io spero, finalmente un mondo multipolare, basato su un equilibrio di forze, tali da garantire la pace e il venir meno della missione speciale degli Stati Uniti che si sentono titolati a governare il mondo intero nel nome in realtà del loro interesse, sia pur sempre spacciato come benessere dell'umanità, democrazia, diritti, abbattimento delle dittature. Vedremo cosa accadrà, intanto pare sempre più decisa la protesta contro l'Occidente, contro la sua leadership, come viene anche detta. Queste parole di Lavrov credo che meritino di essere analizzate in questo contesto.